Sono onorata per presentare questa manifestazione perché per accendere Brasciere di Firenze è stato un piacere perché si accende emozioni e energie soprattutto per i nostri bambini e poi soprattutto è stato un piacere perché sono accolta come una campionessa olimpica naturalizzata a Fiorentina. Una cosa la posso chiedere, l'emozione della medaglia d'oro olimpica? Sicuramente sono emozioni incredibili che non si può dire in due parole, bisogna sentire qui dentro e rimangono qui a parole non spiegabili, forse forse. Grazie